La risposta che il preside ha dato non è condivisibile nella maniera più assoluta. Ha tirato fuori un numero di 800 persone che dovrebbero gravitare nella scuola se lui permettesse questa didattica in presenza. Noi siamo 30 famiglie che abbiamo chiesto la didattica in presenza. Quindi due o tre ragazzini per ogni disabile, tre per tre fa nove. 90 proprio a dire tanto, tutti presenti. Lui vuole fare l'integrazione, benissimo, ma si faccia come si deve. Ogni classe, due o tre alunni, festa finita. A rotazione, una volta a settimana, cioè una settimana per uno, e si fa l'integrazione. L'integrazione come si fa? Con l'ingresso della provincia di Arezzo, in zona rossa, al liceo artistico coreutico scientifico, nonostante le aperture previste anche dall'ultimo DPCM, è stato deciso di sospendere la didattica in presenza, anche per gli studenti con disabilità, oppure BES, i ragazzi che hanno riconosciuto un bisogno educativo speciale. Per loro è fondamentale, è importante fare la cartella, guardare le materie, tornare a casa con tanto soddisfatto di aver fatto delle schede, aver fatto cose nuove. Era abituata a questi ritmi, tre volte a settimana, tolte anche questi, piange, è in casa e piange. Il figlio non essendo verbale, è un ragazzo autistico di 17 anni, lui la mattina sa già dove va, dal momento in cui non ha la scuola, ha un vuoto, che gli crea uno sconforto e uno stato psicofisico disastrante. In altri istituti della Retino è stata fatta una scelta ben diversa da quella del liceo artistico, e così i genitori di questi ragazzi sperano in un passo indietro del dirigente scolastico. La DAD per noi non rappresenta nulla, perché i miei figli o i nostri figli qui la maggior parte non riescono a seguire in DAD, in alcuni poi non ci sono neanche le competenze minime per seguire in DAD, quindi con la chiusura della scuola si perde il diritto allo studio. Bisogna introdurre, se ho capito bene, queste modifiche per permettere anche a altri ragazzi di venire insieme ai nostri ragazzi, e questo va benissimo, noi siamo molto contenti, ma non è che si aumenta l'inclusione interrompendo il servizio, ti organizzi e nel frattempo però continui il servizio, questo dovrebbe essere una logica, no? Mi sembra.